Tornano a calare i nuovi casi di Covid-19 in regione e in provincia. Dopo le ultime giornate in cui la risalita dei contagi nelle Marche aveva fatto registrare 73 nuovi positivi complessivi nel fine settimana, oggi il Servizio Sanità della Regione ha notificato soltanto 4 nuovi casi di coronavirus su tutto il territorio regionale e di questi uno è appartenente alla provincia di Pesaro e Urbino. Da sottolineare però, come ogni lunedì, il minor numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore, che dai poco meno dei 4.000 analizzati nel weekend sono passati ad essere 755. Nessun decesso è stato invece notificato nell'ultima giornata. La provincia di Pesaro e Urbino conta 10 comuni con meno di 5 positivi ciascuno, mentre il territorio pesarese conta 7 persone attualmente positive e 83 in quarantena. 9 invece gli attuali positivi a Fano, 5 ad Urbino e 6 a Colli al Metauro. Gli occhi però rimangono tutti puntati sul focolaio che ha avuto origine a San Benedetto del Tronto e che ha fatto occorrere i contagi nella provincia di Ascoli Piceno, arrivando a sfiorare quasi 50 nuovi casi soltanto nell'ultimo weekend. Situazione sulla quale si è espresso questa mattina anche il governatore della Regione, Francesco Acquaroli, il quale ha invitato alla prudenza e al rispetto delle regole per far sì che non si verifichino situazioni analoghe e il conseguente rafforzamento delle restrizioni. Quello che vorrei far notare è che è l'appello per cui diciamo sempre attenzione, anche al di là della questione diciamo strettamente sanitaria, per cui bisogna sempre fare attenzione. Io ipotizzavo se questo focolaio non si limitasse solo ad un'azione, a una città, a una singola fattispecie, ma se incidentalmente dovessero sorgere quattro focolai come questo, uno per provincia, cinque, uno per provincia, noi torneremo purtroppo in zona cialla. È per questo che dobbiamo fare attenzione, perché basta una svista o due sviste o tre sviste che coincidono nello stesso arco temporale e il danno economico alle libertà di tantissimi marchigiani, di tutti i marchigiani verrebbe compromessa, quindi ecco per questo bisogna fare attenzione.